All'ordine del giorno, tra le altre cose, anche l'approvazione del bilancio consuntivo 2014 che lei non ha votato? No, perché si tratta di un bilancio che conferma ancora una volta il taglio di questa giunta, di questa amministrazione, ai servizi che per la nostra città sono essenziali. Questa amministrazione sta tagliando e taglierà sul futuro dei nostri giovani, sul futuro della nostra città. Ha tagliato sulla scuola, ha tagliato sui servizi sociali, ha tagliato sulla cultura, ha tagliato sul turismo, sulle attività ricreative. E nonostante questi tagli influiscano positivamente sul bilancio, sono tagli che però influiscono negativamente sul futuro della nostra città, sugli investimenti che invece dovremmo fare. Paradossalmente non c'è nessuna riduzione per le spese degli organi istituzionali, che è una circostanza abbastanza grave quando le esigenze di bilancio lo richiedono. E non c'è ancora alcun chiarimento su quello che è il dilemma Theam, cioè una società che questa giunta vuole salvare a tutti i costi, che vuole tenere a tutti i costi, che però ancora non ci dice che fine hanno fatto i conguagli tra la raccolta differenziata presunta ed effettiva. Sappiamo che quella presunta è quella che sta alla base del calcolo della tariffa, quella effettiva, data dall'osservatorio provinciale dei rifiuti, dovrebbe comportare dei conguagli a vantaggio dei cittadini, visto che è sempre inferiore a quella presunta. Di questi conguagli noi non abbiamo traccia, non abbiamo contezza. Da un'analisi fatta sulla base dei dati dell'osservatorio provinciale dei rifiuti, si tratterebbe ormai di circa 7 milioni di euro che consentirebbero di rimettere assolutamente in positivo il nostro bilancio.